Allora, se questo è un processo all'alimentazione automatica, abbiamo raccolto le testimonianze. Gli abbiamo lanciato un avviso di garanzia. Adesso sentiamo, andiamo oltre, perché vorrei che in finale di questa interessantissima giornata di studio abbiamo delle idee chiare per prendere anche delle decisioni. Vi faccio un esempio. Mettiamo che oggi l'argomento non fosse stato l'alimentazione automatica, ma il raffrescamento delle bovine. Io sono un veterinario, non mi occupo di questioni ingegneristiche. A volte mi chiedono gli allevatori, ma che ne pensa dell'impianto? Dico, ma non lo so, chiediamolo alle vacche. Quindi diciamo che le vacche esibiscono una sintomatologia più o meno a secondo del sistema, in quel caso, di raffrescamento adottato. A me interessa sapere i dati dei data logger, cioè se la temperatura rettale rimane al di sotto di quella che noi riteniamo essere rischiosa per lo stress da caldo, piuttosto che altre performance, altri fenotipi che possono essere la produzione. Cioè per me un impianto di raffrescamento, a prescindere dalla marca e da dove sono stati posizionate le docce, piuttosto che i ventilatori, mi interessa sapere se è in grado di raffrescare gli animali anche in condizioni estreme. L'assesso ragionamento lo faccio io almeno personalmente quando mi chiedono un parere su quel carro Unifed piuttosto che su quell'Unifed. Deve, diciamo, soddisfare ai requisiti di quello che noi consideriamo essere il gold standard dell'Unifed. E sappiamo bene che ci sono dei criteri di valutazione precisi, ma ci sono anche il giudizio degli animali, che lo esprimono non parlando, chiaramente, io non ho mai sentito una vacca parlare, ma lo esprimono con la loro sintomatologia. Perché se io mi installo o ho dei problemi, o delle fluttuazioni della produzione, o emetto un sospetto diagnostico di acidosi ruminale sul clinica, si presuppone che quel carro gestito in quel modo non funziona. Poi la marca può essere famosa o scadente. Allora, siccome abbiamo qui dei giudici, abbiamo sia un livello elevato, diciamo, di giudici, abbiamo comunque un livello elevato tra di voi di giudici, popolari, perché insomma tutte persone che hanno una fortissima e pluriennale esperienza empirica, per cui io vorrei cominciare usando sempre l'ordine della locandina, quindi non facciamo privilegio a nessuno, ma in questo caso anche un ordine di esperienza. E quindi parleremo con Enrico Dubini, che in ordine di esperienza, diciamo, penso sia oltre i 40 anni, è un libero professionista, quindi esercita un'attività per gli allevatori, poi sempre in ordine di età e di esperienza, abbiamo Luciano Bertocchi, che esercita, diciamo, la tua attività professionale nell'ambito di uno dei più grandi, il più grande manginificio, o industria manginistica italiana, e poi Luciano Comino, che esercita la sua attività, è il più giovane del gruppo, lo esercita all'interno di un'associazione regionale di allevatori piuttosto importante, che è quella del Piemonte. Quindi abbiamo la possibilità. Poi abbiamo voi, che vi chiedo poi, chiaramente questa è una tavola rotonda, non è un comizio, di esprimere la vostra opinione, non tanto sia su quello che abbiamo visto, e quindi chiedere ulteriori informazioni a Ghea, ma anche su quello che lo riteniamo. Quindi io faccio la prima domanda a Enrico Dubini, quindi vi prego a tutti, io farò domande sintetiche, risposte anche altrettanto sintetiche, in modo che possiamo avviare una discussione, anche per un'ora, alla fine. Vediamo, quando ci stufiamo, ci andiamo via. Enrico Dubini, qual è il gold standard, secondo te, dell'Unifed? Beh, è una domanda semplice per cominciare. Comunque no, a parte gli scherzi, in effetti, come purtroppo ha accennato Alessandro, la mia esperienza è molto lunga. Quindi, devo dire che, di fatto, già ci sono stati dei cambiamenti epocali nel miglioramento della qualità dell'Unifed. Cioè, abbiamo avuto una serie di, non siamo qui per parlare di queste, ma una serie di tecnologie che ci hanno aiutato molto ad arrivare a questo gold standard. Faccio degli esempi. Qualche anno fa, era impossibile pensare di trinciare un silomais a 3 cm. Oggi esiste una tecnologia, che non ha niente a che fare con quella di cui stiamo discutendo, che ci permette di trinciare il silomais a 3 cm. Oppure, tutto ciò che riguarda gli insilati d'erba, non in trincea, è stato migliorato notevolissimamente dalle ultime tipo di imballatrici a cuore duro, con un numero di coltelli che qualche anno fa non sembrava possibile poter inserire. O addirittura, dalla tecnologia, chiamiamola per capirci, ORC, ossia il foraggio pretrinciato che poi viene imballato con una compatatrice automatica. Tutte queste condizioni hanno fatto sì che ci avviciniamo sempre di più al gold standard. E qual è il gold standard? Secondo me, il gold standard, io lo dico, io ripeto una cosa che ho detto mille volte nelle aziende dove sono andate, che la fibra è come una fettuccia e bisogna tagliarla a pezzi il più simili l'uno all'altro possibile. Questo mi sembra che sia una definizione molto sintetica ma che ha un senso. Ora è chiaro che poi noi tutto questo lo possiamo monitorare ed è chiaro, altrettanto chiaro, che ci sono foraggi che oppongono maggiore o minor resistenza al taglio. È chiaro che una soluzione come questa che abbiamo visto sicuramente ci avvantaggia notevolmente. Non c'è niente da dire. Quando tu, io ho un'esperienza molto limitata ma proprio di recente mi è capitato di fare un programma di insilamento del frumento in un'azienda che ha un robot di alimentazione ed effettivamente mi sono reso conto che il passaggio da i foraggi precedenti che erano dello stesso tipo perché si trattava sempre di insilati di graminacee però che avevano delle caratteristiche per cui il taglio era più difficile eccetera eccetera ha migliorato molto la qualità dell'Unifed. Quindi direi che il lavoro a monte del robot è molto importante e riuscire a standardizzare questi valori perché per quanto lui misceli bene non riesce a tagliare ulteriormente i foraggi. Quindi il grosso problema il grosso punto sul quale focalizzare l'attenzione dell'allevatore è proprio quello. D'altro canto l'Unifed abbiamo degli strumenti che non sono più discutibili cioè quando abbiamo un penstet separator sappiamo di cosa stiamo parlando e sappiamo anche che col nuovo tipo di setaccio 4 mm ciò che rimane di sopra si può tranquillamente definire la fibra fisicamente effettiva. Ecco io direi che questi sono non dico il gol standard ma gli obiettivi che ci dobbiamo porre in qualunque situazione e a maggior ragione potendo disporre a valle di una tecnologia come questa. Sono stato breve abbastanza. Guarda mi hai sorpreso. Luciano Luciano Bertocchi abbiamo due Luciano e ti faccio la stessa domanda Luciano anche tu hai maturato un'esperienza ormai siamo credo 40 anni anche tu hai 40 anni di attività professionale di stalle ne hai girate un po' ne hai viste di cotte e di crude quindi hai studiato molto nel senso che chiaramente ti sei aggiornato qual è il gol standard cioè l'Unifed che risponde a rendere il rumine in equilibrio 24 ore cioè il rumine è una cosa estremamente tradizionale ed estremamente conservativa cioè il rumine funziona bene se gira pari è come un gruppo elettrogeno se gira pari funziona se ha degli sbalzi non va tu come la vedi secondo il quale per giudicare un Unifed ben fatto il gol standard credo di avere molte difficoltà a rispondere nei tempi in cui ha risposto per questo ho fatto quella premessa prima e premetto questo grazie dell'invito mi piace molto questo tipo di approccio perché mi permette vorrei dire di parlare solo dell'esperienza che ho fatto io nel senso che il gol standard dell'Unifed secondo me è sempre relativo a dove siamo in che parte del mondo e che cosa vogliamo tenere però sostanzialmente mi piace molto il concetto e qui lo vorrei stressare e non vorrei anticipare una domanda tua se noi dobbiamo adattarci alle vacche o i sistemi devono essere compatibili con quelle che sono le esigenze fisiologiche delle vacche ma immagino che sarà argomento di discussione successiva pochi anni fa quando c'erano ancora le lire forse bastavano 5.000 lire per dare un denaro sufficiente alla vacca per andare a prendere quello che voleva adesso ci vogliono almeno 10 euro per cui nell'ambito dell'aumento dei costi di produzione l'alimentazione è importante quindi il gold standard e quindi la necessità di non sprecare risorse è fondamentale non esiste un numero preciso esistono delle caratteristiche che devono essere rispettate io credo che la condizione migliore possibile sia quella di trovare sto dicendo quelle che secondo me sono le condizioni che vedo più rappresentate nelle migliori aziende quelle che hanno i risultati migliori di mantenere tutto il più costante possibile come dicevi tu Alessandro all'interno di un rumine dove ci sono variabilità non dico orarie ma sicuramente con degli intervalli di tempo che sono condizionati da tantissime cose che noi non possiamo prevedere la temperatura stessa cambia le condizioni di pH a livello ruminale quello che noi dobbiamo sicuramente sforzarci di fare a prescindere da tutto è quello di ragionare su un valore medio il valore medio è rappresentativo di quello che succede quando parliamo di una lunghezza media di una particella è rappresentativo sì dobbiamo riuscire ad arrivare il più vicino possibile a un valore medio rappresentativo sia per quello che riguarda le dimensioni delle particelle sia per quello che riguarda tutti gli altri elementi nutrizionali che fanno parte dell'alimentazione delle vacche con più noi siamo precisi nel mantenere una condizione di omogeneità da tutti i punti di vista sia in termini di amido di fibra digeribile quant'altro a prescindere dalla qualità degli alimenti che ripeto in questo momento qui non affrontiamo con più siamo bravi a creare una razione omogenea e quindi la soluzione che poi passa attraverso una meccanizzazione che passa attraverso la scelta in campo la scelta agronomica di una determinata tecnologia è quella che ci può dare il risultato la sintesi di questo è comunque una miscelata che possiamo in qualche modo valutare adesso ci sono delle tecnologie che sono anche automatiche sono state anche anticipate che automaticamente che cosa fanno selezionano o perlomeno fanno una valutazione della lunghezza delle particelle attraverso il sistema NIR il fatto di farlo preventivamente sicuramente ci do una mano il fatto di fare un controllo anche ex post è sicuramente una soluzione che fino a poco tempo fa non pensavamo mai Luciano Comino sei stato sorprendentemente sintetico ma non perché sei uno che parla troppo perché è chiaro è la tanta esperienza Luciano tu sei anche tu sul campo quindi sei un operativo hai un'esperienza empirica non indifferente su un'area diciamo ad alta concentrazione di animali qual è il cost standard secondo te cioè le stalle che va bene come è fatto l'Unified è quello del separatore della Penn State o è superato anche quel concetto secondo te allora buongiorno a tutti ovviamente sono perfettamente d'accordo con quanto detto sia dal dottor Dubini che dal dottor Bertocchi volevo aggiungere alcune considerazioni a riguardo per quello che è la mia conoscenza per quello che è la mia esperienza io credo che il gold standard debba essere contestualizzato in funzione dell'azienda e delle caratteristiche dell'azienda in cui si sta lavorando ovvero prima di tutto il livello produttivo per questo incide sicuramente la tipologia di foraggi che uno ha a disposizione perché comunque noi nutrizionisti ritroviamo a usare quello che si in parte cerchiamo di pianificare tutto però poi la realtà che molte volte ci troviamo a avere a che fare con dei foraggi che non avevamo pianificato per cause di forza maggiore e quindi il livello produttivo in primis la tipologia di foraggi subito dopo che dobbiamo gestire in razione e i gruppi produttivi io credo che prima si è parlato di efficienza e io sposo perfettamente a pieno sostenibilità ed efficienza devono andare di pari basso e io credo che fare efficienza produttiva oggi debba per forza passare attraverso iniziare a ragionare con i gruppi produttivi ma con gruppi non solo produttivi per le bacche in latazione gruppi di alimentazione dalla vitella fino alla vacca prima a fine carriera diciamo perché e questi strumenti sono veramente un'opportunità enorme per poter iniziare a diversificare perché quello che è la mia esperienza ci sono ancora troppe stalle che fanno la razione unica io credo che iniziare a ragionare per razioni differenziate sia il primo step per fare efficienza perché ho detto questo perché il goal standard di una razione varia anche in funzione del gruppo produttivo per esempio vacche alta produzione devono avere fibra sicuramente con un lunghezza di taglio minore quantità differenti tipologie anche di foraggi differenti vacche a fine lattazione con una produzione più contenuta devono avere una struttura della razione differente questo incide anche in funzione del livello di foraggi in cui mettiamo all'interno e del carico di concentrati quindi il goal standard va calcolato va valutato e va poi definito sicuramente ma in funzione di tutte queste caratteristiche di tutti questi fattori una volta valutati tutti si arriva al goal standard per quel gruppo per quell'azienda per quelle vacche e anche per quel periodo che potrebbe essere stati inverno per esempio molto interessante questo ultimo concetto la personalizzazione anche non soltanto delle concentrazioni nutritive ma anche della granulometria dell'unifid questo è un concetto interessante su cui vale la pena riflettere prima di passare alla seconda domanda che ne pensate cioè se io pongo a voi la domanda cioè qual è il goal standard dell'unifid io vedo qui i nutrizionisti vedo la comunità scientifica vedo allevatori per cui ma così empiricamente poi andiamo ancora più dentro al problema perché poi dovremmo emettere una sentenza nei confronti del sistema automatico della Ghea quindi dobbiamo emettere un verdetto ok se non c'è proseguiamo tanto ne abbiamo molte da dire ok passiamo al secondo tanto poi vedrete che ce n'è da dire allora mettiamo che torno all'esempio dei sistemi di raffrescamento io sono un tecnico sono un allevatore sono anche un appartenente alla comunità scientifica cioè sono un operatore della filiera del latte della carne di illuminanti devo optare per una meccanizzazione rispetto a un'altra oppure verificare se la meccanizzazione di cui dispongo è ancora all'altezza della situazione ci può stare che io ho l'idea di cioè che consiglio ci sentiremmo di dare a un allevatore ad esempio che va a visitare una meccanizzazione o una soluzione tecnologica anche sensoristica in un'altra azienda per dire c'è questa consuetudine no l'allevatore deve comprare il nuovo carro o che ne so la nuova sala di mungitura il nuovo robot secondo me quelli un pochino più attenti sentono i loro colleghi cioè vanno a trovarlo dicono ma tu come ti trovi fammelo vedere l'unifid come lo fa è una macchina affidabile quante ore di manutenzione straordinaria fai insomma ma questo vale anche se io devo comprare un'automobile piuttosto che una macchina fotografica insomma oggi siamo nel periodo della recensione no quindi o le vedo su internet oppure le raccolgo direttamente cioè che consiglieresti tu Enrico a un allevatore che vuole comprare un carro automatico e che mi sembra chiaro adesso con i ragioni mi si sbaglio che questa tecnologia del carro automatico sia probabilmente il futuro ma questo lo sento anche dai costruttori tradizionali sia per l'energia elettrica sia per la menodopera specializzata e anche perché vedo che almeno ho sentito d'Agea sono strutture meccanizzazioni che non richiedono il distruggere la stalla e rifarla insomma si adattano a quello che c'è è chiaro se c'è una buca di due metri no ma insomma in generale sì che cosa gli diresti di controllare a un tuo cliente Enrico è sempre più difficile è così il gioco siamo in ferie stamattina dai su comunque no beh allora a me capita proprio ultimamente di dover rispondere a domande analoghe a quelle che mi ha fatto adesso Alessandro ossia io mi occupo anch'io di un settore ben specifico che è quello di formulare una razione e tra parentesi sfoso al 1000% quello che ha detto Luciano poco fa riguardo alla possibilità di gestire a me capita io ho una stalla con questo e mi capita di fare per le manze sei razioni e questo è indubbiamente un plus perché non c'è niente da dire è un plus però detto questo che non così intanto penso cosa dire sulla domanda detto questo no detto questo devo dire una cosa io la prima cosa che farei stamattina due allevatori che volevano venire qua mi hanno detto no abbiamo il fiene eccetera eccetera però alla luce di quello che ho sentito stamattina e quindi quello che penso io è che un allevatore che va a vedere un robot di alimentazione chiedo scusa che va a vedere un robot di alimentazione deve innanzitutto pensare a qual è la sua struttura aziendale a monte ossia un robot di alimentazione deve essere nutrito per esempio con degli insilati questi insilati hanno differenti quantità di sostanza secca cioè differenze nel quantitativo di sostanza secca differenze di lunghezza di trinciatura differenze diciamo nel modello nel modulo per cui tu lo porti dalla trincea per esempio al robot di alimentazione quindi la prima cosa che gli direi è di guardare come fanno gli altri in questo settore ossia tutto ciò che è la logistica dal cantiere agricolo al cantiere alimentare è fondamentale poi la cosa che è più importante è capire quello come lavora ogni singola macchina per esempio io ho tre clienti che hanno robot di alimentazione uno ha sette celle uno c'è una quattro e uno c'è una tre questo implica un problema cioè se un signore usa il silo mais l'insilato d'erba è un mangime finito vanno bene tre celle ma ci sono allevatori che per ragioni legate proprio alla sostenibilità ossia oggi come oggi un allevatore è il doppio raccolto non è che lo può più pensare se farlo o no lo deve fare e quindi a proposito dell'adattamento della vacca al robot o viceversa noi dobbiamo pensare a questa cosa qua e soprattutto dobbiamo capire da quello che andiamo a trovare come ha fatto lui agronomicamente a fare quei foraggi perché è vero è che come si chiamano le camere del robot di alimentazione devono essere riempite ma d'estate per esempio riempire una camera robot di alimentazione e lasciare lì anche solo un insilato di medica per tre giorni diventa un problema quindi tutte le cose che hanno a che fare con la segmentazione tra la parte agronomica e stoccaggio dei foraggi con invece il carico della macchina sono cose fondamentali e poi un'altra cosa che io considererei di guardare è come lavora il robot perché ci sono delle aziende dove il robot fa otto razioni al giorno però ne distribuisce diciamo che ci sono quattro zone di alimentazione distribuisce due volte al giorno in ogni zona dell'alimentazione e direi all'allevatore che va a trovare il suo collega di considerare se tutte le vacche come comportamento alimentare vanno a mangiare anche quando il robot di alimentazione non distribuisce nel proprio settore questo è un altro problema io mi sono accorto che il comportamento alimentare delle vacche cambia radicalmente sicuramente in meglio cioè noi non siamo degli oscurantisti però tra una vacca che si butta sull'unifid specialmente con la somministrazione giornaliera e fa un pasto in mezz'ora di 5 kg di sostanza secca è una vacca a cui un carro da 4 metri cubi distribuisce 4 metri cubi potrà distribuire 10-15 quintali per ogni volta che passa davanti alle vacche quindi il comportamento alimentare di queste vacche che sanno che il carro arriva 8 volte al giorno con un quantitativo minore di unifid deve essere monitorato perché la vacca è abitudinaria tende ad andare a mangiare sempre allo stesso posto quindi ci sono delle cosette secondo me che dovrebbero orientare le scelte di un allevatore che compra cercando naturalmente di far tesoro di chi ce l'ha già breve? abbastanza abbastanza questo carro è in grado di fare una razione senza insilati? senza insilati solo con fieno? sì ok assolutamente no questa è già una risposta importante visto anche il comprensorio dove abbiamo dove stiamo possiamo si personalizzare a seconda della razione che il vapore ha in ambientale ok questa non è una risposta marginale perché io ricordo sempre anche negli articoli che scrivo per Ruminanzi è che l'Italia si è fatta di chiaramente una grande pianura e qualche piccola pianura in rigua un po' in giro per l'Italia ma il 75% del nostro territorio è su una dorsale appenninica e su una dorsale alpina e che un pezzo importante della nostra produzione si fa in Emilia Romagna dove insomma abbiamo il parmigiano reggiano che è la seconda dopo e più importante del nostro paese quindi ok e Luciano si Luciano Bertocchi ovviamente è difficile aggiungere qualcosa dopo 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 la panoramica di Enrico io direi che c'è un'altra prerogativa importante e questa dovrebbe essere un'occasione nella platea vedo anche degli allevatori vedo dei tecnici vedo molte persone con i capelli bianchi e quindi sostanzialmente secondo me è importante che cominciamo anche a giudicare la sostenibilità di un progetto di automatizzazione nutrizionale come distribuzione degli alimenti all'interno di un contesto un po' più grande che è quello come diceva giustamente Enrico e come ha detto il mio collega omonimo della variabilità degli alimenti che dobbiamo sempre tenere in considerazione ma le aziende di miglior successo a prescindere dalla modalità che adesso hanno di distribuzione e riparazione delle razioni è comunque sempre legata a quelle aziende che hanno la minor variabilità degli alimenti e su questo non ci sono dubbi poi il condizionamento ovviamente dipende da tante cose però c'è anche un altro aspetto secondo me fondamentale che è questo di questa visione un po' artistica dell'alimentazione quindi molti di noi sono un po' maghi un po' nutrizionisti eccetera per dare valore aggiunto alle cose ovviamente delle volte enfatizziamo degli aspetti che probabilmente non sono così importanti quindi quando parliamo di una razione ottimizzata per il gruppo di animali parliamo di un giusto raggruppamento degli animali che già di per sé è un problema grossissimo da fare in azienda e un altro aspetto fondamentale è che molto spesso noi cerchiamo di compensare questi deficit attraverso delle ricette magiche di un microalimento o di una nutrizione particolarmente complicata quando effettivamente il problema a monte è un problema di disponibilità primaria di un alimento sappiamo che quando parliamo di raffrescamento molte aziende in questo momento in Italia non hanno un raffrescamento efficace non hanno addirittura un raffrescamento quindi questa ipotesi di meccanizzazione deve essere un po' vista anche in funzione di quella che è la mentalità e l'approccio che anche gli allevatori devono avere in funzione di un aspetto della meccanizzazione la meccanizzazione è importantissima però come giustamente è stato detto prima di me dipende da quali sono le condizioni di partenza che presuppongono che io abbia degli alimenti che sono sicuramente di buona qualità è già stato detto che se mi scegliamo qualcosa che non è di qualità è inutile che ci sforziamo di compensarli attraverso una distribuzione o una micelazione più efficace quindi anche da questo punto di vista esorterei sempre gli allevatori in questo caso e Luminanzia si è resa disponibile a questo tipo di comunicazione a valutare bene qual è l'aspetto ma non economico ma l'aspetto gestionale che poi condiziona una scelta di questo genere ci siamo passati attraverso questo tipo di approccio quando sono stati introdotti i primi robot di mungitura non stiamo ormai discutendo sul fatto che il robot di mungitura sia efficiente oppure no a prescindere dalla marca stiamo ormai discutendo di qual è il prossimo futuro come faremo ad organizzarci in maniera migliore per la gestione del robot di mungitura sapendo che non è un problema legato alla carenza di personale specializzato è un'ottica di efficienza e quindi non solo nutrizionale in questo caso di estrazione del latte dove per esempio anche Bellucci e Ghè hanno scritto delle pagine importanti però stiamo sempre parlando di qualche cosa che nel corso degli ultimi 30 anni non è stato collocato non è stato percepito nella maniera corretta perché spesso noi cerchiamo di compensare con delle soluzioni magiche delle situazioni che effettivamente hanno già un presupposto un fondamentale che è assolutamente sbagliato quindi nell'approccio alla meccanizzazione alimentare così come quella della gestione della mungitura è sicuramente importante collocare al posto giusto i fondamentali con cui io mi approccio che cosa consiglieresti agli allevamenti che seguite come associazione regionale allevatore del Piemonte nel dire si vai a vedere quella meccanizzazione ma cosa devi guardare perché immagino che te lo chiedano chiaramente allora io ho avuto la fortuna e ho ancora la fortuna di seguire un allevamento in Piemonte che da 5 anni a questa parte c'ha un'alimentazione robotizzata ma la fortuna più grossa è stata quella di aver iniziato a seguire 5 anni prima quindi c'è uno storico abbastanza importante di questo allevamento e abbiamo anche dei dati abbiamo fatto anche un po' di prove a riguardo perché io sposo appieno quello che ha detto il dottor Bisaglia all'inizio nella sua relazione che bisogna assolutamente quando uno va a vedere una macchina di qualsiasi marchessa sia robotizzata cercare di integrarlo poi perfettamente nel sistema suo aziendale perché se non si pianifica ed è la cosa più difficile io credo se non si pianifica non si cura nel dettaglio questo aspetto qui rischia che non è la macchina che non funziona e che non l'abbiamo inserita perfettamente nell'azienda e quindi iniziano i primi problemini su questa azienda abbiamo diversi ho già un'esperienza ormai di anni e soprattutto quando abbiamo inserito questa alimentazione automatica tutta la parte foraggera adesso io lavoro molto con gli insilati e abbiamo dovuto ridimensionare quelle che erano le trincee rivedere la cucina il taglio dei cubi eccetera 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 perché ogni alimento ha una sua stabilità aerobica quindi pastone piuttosto che silomais piuttosto che foraggiere prattive sono diverse variano anche in funzione della stagione della temperatura estate inverno questo credo che sia abbastanza ormai assodato e il fatto di avere una cucina e il fatto che la si carichi un giorno sì un giorno no o comunque in funzione di quello che è la dimensione aziendale o quello che è la logistica dell'elevatore implica fare molta attenzione perché cosa abbiamo notato che le trincee scaldavano non scaldava il contenuto in cucina ma scaldavano le trincee nonostante abbiamo fatto un conto ok le classiche misure 25 cm di pastone d'estate e 15 d'inverno per prevenire l'elettoramento aerobico per il silomais per la medica questi numeri qui non valgono più per il robot perché cambiano perché non è come noi non desiliamo tutti i giorni la nostra fetta di 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 alimento lo facciamo un giorno se un giorno non ogni due giorni o tre giorni dipende e quindi se si entri con l'ottica lì gli avanzamenti devono essere completamente differenti e questo l'abbiamo notato subito questo aspetto qui che diciamo così ha impattato subito negativamente poi ovviamente frutto dei dati e dell'esperienza abbiamo subito ridimensionato il tutto e poi la pianificazione delle culture è vero giustamente ci sono aziende che hanno tre alimenti aziende che hanno sette aziende che hanno dieci se si vuole mantenere questo tipo di sistema alimentare bisogna integrare perfettamente il sistema di automatico perché se no rischiamo di fare dei danni sulle vacche perché noi non riusciamo a collocarlo e valorizzarlo questo sistema e quindi molte volte dicono andavo meglio prima passatemi il termine quando non ce l'avevo no non è quello e perché non hai considerato quegli aspetti che molte volte uno va a vedere il robot rimane affascinato bellissimo però non pensa a casa sua a come devo integrarlo lo metto lo inserisco e poi vedo assolutamente no questa cosa non va fatta perché poi cambiare o comunque dall'oggi al domani diventa poi difficile e poi le vacche iniziano a rispondere in maniera diciamo così negativa e poi cambiare in corso d'opera non diventa una cosa molto semplice quindi il messaggio che voglio dare è proprio questo di pensare come poterlo utilizzare per far sì che la gestione dei miei elementi sia perfetta e un'altra cosa che voglio aggiungere e poi ogni sistema automatizzato al suo modo di lavorare ma insilati ad esempio prattivi che comunque hanno abbiamo visto anche prima ma anche altri insilati ma soprattutto quelli prattivi quando si apre la trincea il fronte non è omogeneo dall'alto verso il basso quindi noi abbiamo una diciamo così differenziazione anche della sanzasecca e se alcuni sistemi robotizzati vanno a inserire in razione l'alimento e lo tagliano in maniera magari dall'alto verso il basso noi avremo razioni sempre differenti perché va a prendere punti di foraggio che hanno sanzasecche differenti nel tempo e noi questa cosa qui prima non la vedevamo perché con l'unifid classico con il carro miscelatore facevi un lavoro differente quindi questa cosa qui va assolutamente diciamo così calcolata e pianificata e si può fare tutto anche una cosa che ho notato l'organizzazione tipo la lunghezza di taglio il modo in cui produci foraggi se si vuole valorizzare al massimo i sistemi di alimentazione devi produrre un foraggio già perfetto soprattutto nella lunghezza di taglio quindi devi anche cambiare il modo di produrre di conservare e di raccogliere i tuoi foraggi a volte o comunque modificarlo per far sì che il tuo sistema innovativo funzioni veramente sia veramente innovativo e porti veramente un beneficio e quei due o più sei chili alle vacche di latte grazie a te Luciano e penso che stia venendo fuori un concetto molto importante che è il concetto diciamo è un po' quello di quando si vanno a comprare i tori per l'inseminazione artificiale prima si compravano i tori cioè compro quel toro che ha quelle caratteristiche che mi piace di più è nel topo delle classifiche adesso si compra il piano accoppiamento perché ogni azienda ha il suo anche se conferisco il latte nella medesima latteria o nel medesimo caseificio non compro più i singoli tori compro i tori che rientrano in un piano di accoppiamento questa è una visione a mio avviso molto moderna quindi mi sembra che tutti e tre abbiate risposto in vario modo a questo non lo so dipende dall'azienda dipende dalla mentalità dipende dai foraggi dipende e su quello vai a vedere quindi questo concetto guardate è molto importante noi veniamo dalla storia del copia e colla il sistema del copia e colla se va bene a casa tua non è detto vada bene a casa mia è fondamentale questo richiede chiaramente il fatto che magari l'allevatore che vuole fare qualcosa senza sbagliare si sbaglia sempre ovviamente magari fare un sovralluogo con il tecnico che possa dargli il contesto potrebbe essere una buona soluzione come la stessa cosa del toro ho comprato quel toro a casa tua fa il latte non il toro ovviamente la figlia a casa mia no e qual è la differenza perché non era il toro adatto per te per quello che tu stai facendo volevo chiedere però una cosa a dottor Bisaglia Carlo tu hai messo una diapositiva e ti sei soffermato un po' più del normale sullo scegliere sul sorting ma è un problema ancora questo secondo te dalla tua esperienza diciamo di appartenente alla comunità scientifica cioè pensi che è un problema che su cui bisogna ancora soffermare l'attenzione secondo me si te lo dico già come opinione allora sul sorting abbiamo visto tante cose abbiamo visto che nelle 24 ore la razione che è stata progettata cambia quindi non è vero che dopo 4 ore ho la stessa razione che avevo 4 ore prima è stata leggermente modificata dagli animali quindi questo penso che possa essere un aspetto diciamo per lo meno da tenere sotto controllo poi non tutti gli animali selezionano nello stesso modo noi pensavamo ad esempio che con l'aumento della frequenza della distribuzione gli animali selezionassero di meno non è vero cioè gli animali non so magari ci sarà un etologo qui che potrà darci una spiegazione i bovini selezionano sempre anche se ogni 2 ore io do una razione nuova loro selezionano sempre e modificano quello che c'è in mangiatoia emergono delle soluzioni che tentano di arginare questo fenomeno mi ha molto colpito una proposta di un gruppo di ricerca danese che propone il compact il compact tmr cioè il tmr in cui spariscono i pelle sparisce tutto quello che può essere selezionato viene aggiunta dell'acqua e viene fatta una razione che diciamo è molto più simile ad un pastone che non ad un unifid perché l'obiettivo era assolutamente evitare la selezione da parte degli animali ora le bovine sono ruminanti quindi diciamo hanno un loro comportamento che non riusciamo a modificare in questo momento quindi l'unica cosa che io posso dire è che la selezione da parte degli animali può essere un problema quando è eccessiva quando è evidente è ovvio che diciamo quando tu dicevi qual è il gold standard all'interno di un allevamento dal mio punto di vista il gold standard è quando lungo la mangiatoia ho una variabilità tra un campione e l'altro al di sotto del 10% perché non stiamo facendo delle aspirine in cui ci aspettiamo che ogni compressa abbia lo stesso contenuto di principio attivo ci aspettiamo e accettiamo una certa variabilità però la selezione può portare al di fuori di questo parametro quindi può essere un problema quindi uno diciamo così dal punto di vista tecnologico può andare a fare delle verifiche sto trinciando troppo lungo ho il carro che deve essere mantenuto ho miscelato male le componenti diciamo solide tipo i pellet rispetto al resto quindi effettivamente a mio avviso il problema della selezione da parte degli animali è duplice gli animali fanno il loro mestiere e selezionano quello che deve fare l'allevatore è rendere questo comportamento il meno dannoso possibile nell'arco delle 24 ore e quindi curando sempre di più il gold standard che dicevi tu prima e quindi la preparazione la preparazione per un ruminante è fatta di due componenti la parte fisica e la parte chimica entrambe devono essere soddisfatte come lo si fa soddisfare lo si fa tramite una macchina questa macchina diciamo ha un risultato molte volte in funzione anche di come io l'ho gestita quindi direi è una risposta la mia mi rendo conto un po' contorta però di fatto il la selezione da parte degli animali è inscindibile dobbiamo fare in modo che non diventi controproducente per gli animali che vengono a mangiare dopo o nelle ore successive questo a mio avviso è un però quello che ci terrei a dire è che anche di fronte ai sistemi automatici il fattore umano è comunque sempre importante perché io questa selezione è eccessiva o no lo devo andare a vedere devo andare a monitorare ogni tanto quello che succede in mangiatoia non devo come dire siccome ho messo dentro questi ingredienti sicuramente uscirà questo tipo di reazione fino al giorno dopo io ho finito in realtà non è così cioè più si complica il gioco più io devo essere bravo a discriminare faccio un esempio banale sportivo una volta bastava capire chi era il primo il secondo e il terzo poi l'abilità degli atleti è cresciuta abbiamo dovuto prendere il cronometro ma bastava misurare i secondi adesso poi non bastano i centesimi no quindi per poter discriminare tra il primo il secondo e il terzo a volte dobbiamo andare al centesimo di secondo cioè dobbiamo migliorare il sistema di misura delle differenze minime però ci sono il primo il secondo e il terzo io credo che più si complica il gioco e abbiamo visto che si complica no perché la tecnologia c'è ma costa gli animali producono molto di più quindi vuol dire che sono degli atleti molto performanti non basta più vedere chi è il primo il secondo il terzo dobbiamo discriminare con strumenti sempre più difficili e questo è un po' il gioco a mio avviso cioè credo che gli alimentaristi pongano un obiettivo supponiamo il boccino del giocatore di bocce e poi io mi devo avvicinare il più possibile difficilmente tutti i giorni sarò bam sul pallino però il più bravo di noi si avvicina a quel pallino il più scarso un giorno tira lì un giorno tira là un giorno a fortuna e fa centro però voglio dire penso che sia un po' questo no il discorso e volevo chiudere anche quando tu dicevi che i sistemi automatici potrebbero essere il futuro io invitavo a riflettere su questa cosa che le nuove tecnologie all'inizio spesso si affiancano a quelle esistenti cioè il cellulare non ha eliminato completamente il telefono fisso il robot di mongitura non ha completamente eliminato i sistemi di mongitura meccanici anzi direi che le nuove tecnologie spesso si affiancano a quelle esistenti e le stimolano a migliorare i sistemi di mongitura tradizionali meccanizzati sono molto migliorati da quando devono competere con i robot tutta la sensoristica che c'è adesso a parte che non tutti la utilizzano ma è disponibile abbiamo già visto alcuni miglioramenti strepitosi a mio avviso sui carri miscelatori tradizionali perché in qualche modo incalzati dalle nuove tecnologie che sono arrivate il cronometro misura i centesimi di secondo non ci basta più sapere chi è il primo chi è il secondo chi è il terzo che era facile da discriminare adesso è difficile per farlo occorre una tecnologia più evoluta e tutto può contribuire grazie Carlo tu hai detto una cosa importante che ci vogliono gli etologi condivido al mille per cento perché dobbiamo capire sta vacca che cos'è e cosa c'è nella zucca di questa vacca perché a volte ci sfugge un po' quindi noi pensiamo di pensare che mi ricordo un film che era il topolino sotto sfratto dice a un certo punto dice se vuoi prendere il topolino devi pensare come un topolino era la morale di questo film invece quello che secondo me sfugge a volte questo lo dico anche io alla luce dei 40 anni di professione che a volte il dimenticarsi la fisiologia di questi animali cioè il non capire che il rumine lavora bene quando lavora in un ambiente costante nel tempo perché il rumine si è evoluto con l'evoluzione di un prato quindi lui cambia però nel tempo in cui cambia un prato quindi il fatto che oggi ti cambio la razione e magari dopo tre giorni mi aspetto un risultato si fa non conoscere la fisiologia dei ruminanti perché prima di imparare una razione ci vogliono 40 giorni e quanto è pericoloso che la razione cambi giorno dopo giorno ora dopo ora cioè tu quel rumine non sarà mai efficiente tu avrai potuto spendere una caterpa di soldi per genetiche da fantascienza ma tu fai lavorare male il rumine il rumine alimenta la vacca non viceversa ok un'ultima domanda poi così apriamo anche le domande per Ghea se mi puoi aiutare che il mio inglese è ovviamente pessimo Luigi volevo chiedere a Carolina hai detto una cosa importantissima però secondo me l'hai detta troppo veloce vorrei un approfondimento credo che sia ormai anche maturata la consapevolezza che non basta più fare un latte buono sano leale e mercantile come si diceva una volta quindi il latte che rispetta le norme e le leggi perché anche mi sembra che ormai il latte sia migliorato in maniera pazzesca rispetto al primo però adesso ci stanno chiedendo altre cose ci stanno chiedendo il benessere animale questa parola un po' particolare ci stanno chiedendo la sostenibilità per ora ce la stanno chiedendo così a gratis et per amore dei ma credo che a breve ci sarà che la pagheranno vuoi un livello elevato di qualità della vita degli animali pago vuoi un elevato di qualità di sostenibilità ambientale pago quindi perché se no diventa qualcosa che non è sostenibile e il fatto che l'alimentazione automatica utilizza l'elettricità e quindi non i combustibili fossili e questo e porta anche alla quantificazione che tu hai portato dei dati in cui quantifichi qual è la CO2 equivalente qual è il costo di produzione secondo me fondamentale perché io credo che in un domani che è già oggi ci sarà il compratore che non so la catena straniera che dice no guardi che la stalla di Bertocchi produce il latte con queste quantità di combustibili fossili ed emette questa quantità di CO2 equivalente ce lo puoi spiegare meglio questo calcolo che avete fatto ti dispiace Carolina che è importante the assumption was about the standard of the milk really went up for the quality of course is something that everybody knows that affects quality of the milk Il risultato è il risultato, il risultato, il risultato e il CO2. Quindi in fine credo che il risultato e il risultato sono pagati. Ora non è un risultato, non è un risultato, ma in futuro sarà pagato dal consumatore. Quindi vorrei capire qualcosa di più. Abbiamo avuto un po' di calcolazione, il CO2 è un equivalente. Quando la produzione della milchia si è crescita, vorrei sapere un po' di calcolazione. Quindi come pensate a questo trend, che il cliente pagare per la sostenibilità? Siamo pagati o avremo pagato? Siamo pagati, scusate. Siamo pagati, e soprattutto le calcolazioni, un po' di calcolazione. Come abbiamo calcolato questo. Siamo lentamente, perché ho bisogno di farlo. Allora prima, non abbiamo fatto le calcolazioni. Dice come Ghea, non possiamo aver fatto noi calcoli, prima di tutto. Questa è una ricerca che era fatta dalla Università Tecnica in Munich. E hanno fatto questa calcolazione basata su questi modelli di uova, producendo 6.000, 8.000 e 1.000 litri di uova. Quindi ecco precisa che è l'Issuto Bavarese che ha fatto questa ricerca, prendendo queste tre tipologie di vacche, con queste classificazioni di produzione 6.000, 8.000 e 10.000. In questo senso, hanno fatto in considerazione la produzione dei piedi e la gestione dei maniure e dei minerali e il suo equivalente CO2. Quindi hanno preso in considerazione il contributo per la produzione di mangiure, il costo per la produzione di mangiure, il contributo di CO2, degli equivalenti di CO2, per esempio, per la gestione dei liquami. And with all these numbers, they made a sum how much it would be related to this production and the CO2 equivalent per calcolare. fondamentalmente in funzione di tutti questi input di costi, hanno poi scorporato i vari contributi in termini di CO2 equivalente e sono arrivati poi di fatto a un bilancio conclusivo di ecco questa vacca con questa produzione, in funzione di questi input di produzione, che ovviamente a cui corrispondono dei costi, quindi equivale a un consumo, a una produzione di CO2 equivalente X. Per il tema di sostenibilità, per le emissioni CO2, l'unico in cui vedo che stanno pagando in Pai, è in Denmark, Arla is paying, it's making some calculations to pay the farmers an additional premium for their carbon footprint. Ok, per quello che vede, questo penso sia molto interessante, già Arla, operativa danese molto importante, sta già pagando gli allevatori in funzione di una reduzione di CO2 equivalente. So this is public information, you can see it in their website. Sono informazioni di carattere pubblico, lo potete vedere anche sul sito, che già Arla paga, come premialità aggiuntiva questa incentiva, incentiva di fatto. Lo faremo sicuramente. So I think like in Germany, they are paying premiums for welfare, so we see that. In Germania, per esempio, a proposito del benessere, già pagano una addizionale. Yeah. And, well, it's not totally related, but there are also these subsidies for going in automation. Poi ci sono, insomma, una serie di incentivi governativi, insomma, che spingono ad andare sull'automazione, quindi, sì. And you know that the Dutch have also the initiatives to control the amount of fosfat that it's produced in the farm. So these trends are slowly coming in the different European countries. So I wouldn't be surprised if we take a look on what is happening at the European Commission, that there are already regulations on the way. Di fatto, appunto, sottolinea il fatto che questa trend è già di fatto a breve, vedremo sempre di più, diciamo, questo tipo di comportamenti, quindi questo tipo di incentivazione, perché non è solo una direzione, è anche già qualcosa che a brevissimo sarà tangibile, già aveva fatto qualche esempio, ma lo saranno sempre di più. Ok. Posso aggiungere una cosa solo io. Certo. Anch'io che effettivamente siamo tutti concentrati sulla mungitura, ho avuto modo, ecco, per via anche della policy e dell'approccio aziendale che, come abbiamo detto prima, si sta, non dico spostando, ma di fatto, cioè il focus è anche su quello che è il feeding piuttosto sulla gestione dei liquami, ho avuto anch'io modo di approcciare e adesso in questo particolare momento sto pensando all'università e ho visto la sensibilità di alcune università già a questi temi, come già alcuni progetti di filiera stanno già prendendo piede e come già anche in Italia, appunto, si pensa già di incentivare, di misurare questi due equivalenti per introdurre delle probabilità sugli allevatori, quindi non è una cosa solamente danese, olandese o tedesca, ma io, ecco, con un po' di sorpresa, non lo nego, l'ho già visto anche in Italia, adesso che parta domani non lo so, però ho visto un'estrema attenzione a questi temi, quindi mi sono detto, ma forse il tema di sostenibilità è più vicino di quello che sto pensando. Io direi, chiudiamo qui. Allora, se ci sono domande a Ghea di chiarimento dell'alimentazione automatica o le vostre riflessioni, abbiamo ancora tempo. Perfetto. Perfetto. Non si sente? No. Stanno registrando, perché? Intanto mi presento, io sono Daniele Dalle Palle, sono un veterinario e adesso al 100% allevatore, quindi volevo dare un po' il mio contributo, un ragionamento anche da fare. E poi avevo una domanda per l'ingegnere Bisaglia. Bisaglia. Beh, partiamo dalla domanda, che forse è la più semplice. e niente, io avevo bisogno di capire se potevate confermare o se avevate dei dati che potevano, tra virgolette, confermare quello che diceva la Caroline Leggins sull'aspetto dei consumi di gasolio rispetto ai consumi energetici e se effettivamente c'è questa, tra virgolette, correlazione positiva, tra un carro tradizionale e un carro elettrico. Niente, poi volevo portare il mio contributo, anche il mio pensiero, perché alla fine, se dopo parliamo tanto degli animali, dopo dobbiamo pensare anche un po' a noi allevatori, ecco, come persone e quello che fanno all'interno di un'azienda. Io, cinque anni fa, mi ricorderò sempre con un viaggio con Luigi che abbiamo fatto in Olanda, il cambio di approccio di vita che avevano gli allevatori che dobbiamo, secondo me, fare noi come persone, perché la nostra vita, logicamente, ha un valore, ecco, quindi soprattutto sul miglioramento della vita. Mi è colpito soprattutto un aneddoto che ho visto che stavamo andando a vedere questa azienda con dei robot e un ragazzo giovane della mia età aveva costruito una stalla nuova con quattro robot di mungitura e ci ha detto a un certo momento, sì, di far veloce perché altrimenti lui doveva andare via e non poteva esserci. Niente, noi siamo stati lì, tra virgolette, siamo arrivati in questo allevamento e siamo, tra virgolette, da soli, eravamo da soli alle cinque del pomeriggio dove io avevo, tra virgolette, tramandato dai miei genitori tra virgolette questa ansia della mungitura alle cinque del pomeriggio questo ragazzo è partito ad andare a giocare a calcio. Forse per voi magari sarà una cosa che capita spesso che sì, potete permettere, però ecco, per un allevatore avere un po' di vita privata non è sempre scontato. A me è colpito questa cosa qua, io dopo ho messo il robot e vi posso assicurare che la mia vita è cambiata in positivo, ho avuto più tempo per la mia famiglia ho potuto vedere cose che non potevo vedere se avevo la mungitura tradizionale anche se delle volte sono macchine però il miglioramento c'è. Quindi secondo me, come allevatori un ragionamento lo dovremmo assolutamente fare e dobbiamo prendere in considerazione quando compriamo una macchina per alimentare gli animali di prenderla automatica perché ci toglie un lavoro ripetitivo e continuo che non possiamo sempre fare noi, ok? Dobbiamo trovare eventualmente del personale esterno vi racconto io ho sei dipendenti di cui sei stranieri e due italiani però vi posso assicurare che avere persone competenti che capiscano, che riescono poi a tramutare quello che voi alimentaristi bravissimi fate in maniera certosina portate a noi allevatori dopo noi allevatori facciamo fatica a comunicare o far sì che questa cosa avvenga quindi secondo me il fatto di poter delegare a delle macchine che sono robuste funzionano, anche io all'inizio ho avuto qualche problematica con i robot però vi posso assicurare che non tornerei più indietro non tornerei più indietro perché è una cosa che ti cambia la vita quindi benvenga che ci siano queste tecnologie io spero in un futuro di metterlo, ok? non l'ho potuto mettere prima per una questione di logistica e di strutture però io credo che sarà il futuro e dobbiamo crederci dobbiamo studiarci, dobbiamo guardarci dobbiamo, secondo me, non perdici d'animo ma guardarci perché è una cosa che secondo me cambia la vita nell'aspetto della sostenibilità dal punto di vista economico ci fa stare bene abbiamo più produzioni io con il robot ho visto vacche che fanno 80-90 kg di latte che vanno a mungersi 4-5 volte io nella mia carriera da veterinario e da allevatore non le avevo mai viste quindi benvenga che ci sia qualcuno che ci spiega che ci studia che ci guarda perché dobbiamo, tra virgolette, crederci e far sì che queste cose vadano avanti rilascio a lei scusate che mi sono dilungato però volevo condividere con questa cosa perché per me è fondamentale grazie per la tua testimonianza Sì allora noi stiamo tuttora facendo una campagna di acquisizione dati sui consumi energetici però abbiamo con un progetto autofeed se lei va a guardare è disponibile gratuitamente online una diciamo un report in cui ci sono sì ci sono due casi studio il primo è di un'azienda che è passata dal carro miscelatore semovente al sistema automatico e invece un altro studio è una comparazione tra due aziende analoghe e si è vista una riduzione dal punto di vista del consumo energetico quindi il kilowattora per chilo di unifed prodotto anche del 40-45% ci sono dei motivi i motivi sono legati al fatto che un carro miscelatore manipola tutta la razione in una volta quindi è dimensionato per fare questo tipo di lavoro quindi sono a volte diverse tonnellate di massa che viene che vengono lavorate con dei motori meno efficienti rispetto ai motori elettrici e poi il motore elettrico dei sistemi automatici lavora su diciamo piccoli volumi generalmente sempre riempiti a livello ottimale a volte nei carri miscelatori capita che diciamo una grande cubatura non sia sempre come dire sfruttata completamente ma la potenza installata è comunque quella per diciamo i massimi carichi previsti in azienda quindi effettivamente il consumo energetico è più basso però cosa abbiamo riscontrato purtroppo che questa analisi è partita nel periodo in cui le tariffe elettriche sono schizzate quindi non sempre dal punto di vista economico c'è stata una smaccante riduzione solo per motivi tariffari però dal punto di vista energetico è notevole una cosa interessante è per chi si autoproduce l'energia elettrica quindi chi ha il biogas oppure altre fonti rinnovabili dove chiaramente lui utilizza la sua energia e quindi diciamo ha un costo molto interessante quindi qui è la sostenibilità di questo sistema e poi i motori elettrici sono molto efficienti quindi questo anche diciamo in un sistema che allora tecnicamente sono tutti sistemi che si muovono a basse velocità quindi che richiedono molta coppia motrice quindi richiedono diciamo motorizzazioni importanti non so se avete osservato anche voi le potenze dei carri miscelatori e richieste dei carri miscelatori sono molto aumentate negli ultimi anni e questo ha un consumo quindi sì dove ah ecco grazie grazie mi presento Paolo Moroni mi occupo di alimentazione ne ho qualche cappello bianco la tecnologia non si ferma questo è evidente appena sotto i 40 anni di attività sicuramente la tecnologia non si ferma e l'abbiamo visto in tutti questi anni dal punto di vista tecnico e faccio la domanda a chi si occupa di nutrizione sulle macchine non ho dubbi che funzionino e tenderanno a migliorare come sul discorso della della raccolta dei dati si è sempre detto che tutto ciò che non si misura si migliora quindi più misuriamo e più miglioriamo la domanda è questa parlando di insilati Comino ha fatto un accenno giustamente al fatto di dire abbiamo dovuto rivedere le cubature per tanto tempo ma ancora adesso ci preoccupiamo del fatto che se movimentiamo un insilato si scalda non si scalda rifermenta ed è una curiosità che ho sempre avuto rispetto a queste cucine cioè come si inserisce questo problema ammesso che sia un problema così grande come l'abbiamo sempre evidenziato rispetto al fatto che devo movimentare un insilato da una trincea a una cucina cioè il peso se ha un peso e in che modo perché anche quando usiamo dei balloni fasciati ci siamo sempre confrontati è meglio consumarlo tutto in un giorno piuttosto che in due giorni e quindi mi immagino vado prelevo una quota di trinciato che è quella che mi serve nella cucina per un giorno o due quella che metto in cucina come reagisce rispetto a quello che lascio in trincea chiudo dicendo può avere un senso nell'ottica di ottimizzare migliorare e preservare l'alimento insistere ulteriormente sul fatto di coprire i fronti di mangiatoia cioè con delle tettorie i fronti di mangiatoia cioè scusate i fronti di insilato credo due brevi risposte uno di Luciano Comino che mi sembra e una di Gea secondo me come gestire gli insilati quindi nei box di stoccaggio cioè quante volte prenderlo quanto tempo può stare dalla vostra esperienza allora sicuramente è un fattore importantissimo e va ad influenzare tanto quanto aerobico degli insilati degli alimenti sicuramente un accorgimento per quanto riguarda gli insilati è il tipo di insilato quando è stato fatto l'insilato perché sembra banale ma un insilato un taglio di medica fatto a luglio rispetto a un taglio di medica fatto ad aprile o rispetto all'ultimo taglio fatto a settembre ottobre cambia cambia perché lo fai a 40 gradi lo fai a 20 gradi e all'interno la massa la temperatura c'è bisogno di più tempo per dissipare questa temperatura la massa e i tempi di conservazione e ci sono tantissimi fattori si potrebbe parlare per un giorno e anche come copri le trincee che plastica che film plastici usi che appisantimenti usi e in che periodo sei e quindi iniziamo già a mettere in gioco tanti fattori sicuramente più diciamo più il tempo di conservazione lungo meglio è io una cosa che consiglio a prescindere e di gli insilati nuovi aprirli sempre a settembre a prescindere stiamo automatizzato perché comunque prima si è parlato di costanza di mantenere un rumine che giri sempre in modo perfetto in modo costante standardizzare qual è il problema sostanziale che noi la qualità microbiologica non la vediamo noi ce ne accorgiamo quando l'insilato tocchiamo è caldo bollente oppure è cambiato visivamente il colore o comunque c'è già degli odori e lì ok ho dei problemi ma io non mi rifisico a quei problemi lì prima che dal punto di vista microbiologico l'insilato è già attivo si sta già muovendo ma noi visivamente non lo vediamo ma le vacche lo vedono perché il rumine come sappiamo c'è una microbiologia all'interno che se è possibile non bisogna tanto diciamo così alterarla e quindi noi non lo vediamo questa cosa qua ma c'è si può misurare ovviamente ma noi abbiamo potuto farlo e abbiamo misurato e abbiamo visto come cambiava ed effettivamente un consiglio è la dimensione aziendale è importante anche più bacche hai più puoi pensare di trince d'estate più piccoline foraggi insilati l'anno prima ad esempio faccio un foraggio tra aprile e maggio che sia medica che sia loietto che sia miscuglio iniziare a usarlo a luglio già è un rischio probabilmente con alcuni robot di alimentazione il rischio aumenta ancora di più e se non metto un appesantimento consistente sopra il silos quando lo copro sopra l'insilato ancora di più aumento le mie esposizioni al rischio il problema che non me ne accorgo fino a un certo punto perché comunque è l'avanzamento ovvio anche quindi un consiglio è bisogna iniziare a veramente pianificare tutto il lavoro più secondo me più importante più innovativo che non è la fare la classica razione che sta in piedi funziona provala no pianificare tutto ma quel foraggio che mi coltivo su quell'appezzamento come devo produrlo come devo tagliarlo come devo trinciarlo che sostanza secca devo insilarlo come devo coprirlo e quando andrò a usarlo e su che animal usarelo è questo il futuro secondo me per far sì che oltre all'efficienza generale dell'azienda ma anche far sì che tutto quello che noi portiamo come innovazione veramente funzioni e ci migliori anche lo stile di vita perché poi quando abbiamo dei problemi lo stile di vita crolla perché bisogna essere di H24 ma quando facciamo gli investimenti giusti ma soprattutto facciamo le scelte giuste anche nel dettaglio le vacche poi girano passatemi il termine funzionano e siamo tutti più contenti meno problemi meno lavoro più soddisfazione più reddito è una vita migliore quindi c'è tanti tasselli che vanno esaminati e vanno veramente presi in considerazione il dettaglio fa la differenza perché siamo arrivati a un livello tale che il dettaglio fa la differenza ci dai un'idea un consiglio che ha ci date un consiglio che ha su come gestire io prendo gli insilati dalle trincelle metto nei box nei cassoni non so come esattamente il termine usato per quanto tempo li posso gestire dalla vostra esperienza che non è che è nata ieri insomma Dice che dalla nostra esperienza quando diciamo il silato viene fuori in buona qualità e non più di un giorno si parla di un giorno quindi quindi so è una cosa molto saggia molto prudente bene io direi io volevo aggiungere una cosa certo io volevo aggiungere una cosa perché mi hai fatto tante domande parlo senza di dopo ma c'è una cosa non ci sente aspetta nella registrazione c'è una cosa c'è una rite che aspetta ok certo no c'è però a parte degli scherzi Alessandro ci ha fatto un sacco di domande interessanti come sempre beh due ma pesantucci però io che sono molto interessato a queste tecnologie purtroppo sono vittima del mio background di nutrizionista e penso una cosa che non è stata detta qua e che vorrei contribuire alla fine di questa riunione a dire secondo me il vantaggio più grande che c'è con questo sistema e lo posso misurare su quelle poche esperienze che ho io ma sono convinto che sia fondamentale in termini di efficienza proprio sono due fasi della vita della vacca se noi lavoriamo bene con un robot di alimentazione è una delle poche volte che riusciamo a dare da mangiare come Dio comanda alle vacche da 20 giorni prima del parto a 20 giorni dopo il parto scusate ma visto che non mi era stato chiesto ci tenevo a dirlo perché quello è quello è sono i box io non credo al trattamento singolo degli animali credo molto di più a un trattamento di massa visto che anche il mio lavoro cerco di portare avanti un ragionamento molto più di massa secondo me con un robot di alimentazione molto spesso questi due box in cui si fanno spesso e tanto inutili dei disastri epocali bene con un robot di alimentazione questi due box è molto più facile diminuire l'errore umano e anche aumentare la sorveglianza tra virgolette sui singoli alimenti grazie allora grazie a voi grazie a prego la grazie simone volevo portare un'esperienza perché noi il robot ce l'abbiamo già in azienda della vassenbauer e da un anno e mezzo che girano un anno e otto e il cambiamento tra il caro ministratore che io non ho avuto noi adesso mangiamo 360 animali e il caro ministratore non lo abbiamo mai usato sempre taglia baloni e alimentazione automatica del mangime quindi il passaggio caro ministratore non l'abbiamo avuto quindi parmigiano reggiano parmigiano reggiano e noi ci troviamo molto bene la macchina è molto affidabile perché il servizio tecnico di assistenza è molto rapido anche se vengo su da trento però sono veramente molto bravi la macchina ha dato pochi problemi e direi che gli animali sono molto più tranquilli più producono noi facciamo l'incrocio quindi non abbiamo frisona quindi la nostra media è su 29-30 kg per vacca e i titoli sono buoni e aver eliminato questo motore che sento sempre nell'azienda che fa sempre rumore e anche per gli operatori aiuta tanto per il ritmo dell'azienda che è molto più silenzioso molto più armonioso la cosa che chiedevo adesso a Ghia se i 300 animali che fate per robot è per io ho due robot e faccio 650 animali se fanno 300 per robot o 300 in tutto il coso poi due consigli fondamentali che noi abbiamo partiamo ancora è che prima i quattro box sono pochi perché noi abbiamo quattro box e con la priorità dei campi come ha detto il signor quella priorità dei campi e con le caratteristiche dei tempi che ci sono minimo ci vogliono sei box perché poi se tu fai anche monoprodotto tu essendo il nostro prodotto secco tu lo carichi per una settimana per dire non lo carichi più però tu quando c'hai un po' di paglia un po' di erbaio il fiero di montagna perché qui abbiamo anche le montagne che ti da quel profumo che per me il latte non lo dice però il formaggio secondo me lo dice e quindi sei box ci voglio e l'altra cosa fondamentale che nessuno se ne rende conto che per me invece è la polvere ci vogliono degli aspiratori è una progettazione di aspirazione sul taglio dove 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 nasce la polvere perché con wassenbauer litighiamo continuamente perché loro vanno a prendere alla fine all'arrivo la polvere invece la polvere vuole raccolta dove nasce come quando c'è lo smarigliatore che smariglia è lì che c'è l'aspiratore invece qua e basta poi naturalmente chi compra il robot deve guardarsi un po' come penso il robot di mungitura deve diciamo avere una buona assistenza comoda portata in mano con un buon rapporto e con la telemetria con l'argomento in contatto con le tecnologie moderne di oggi sicuramente ma penso che GEA sia attrezzata per queste cose ok grazie 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 allora provo ad andare in ordine diciamo di domande nel senso che allora il discorso dei 300 capi come dicevamo è sicuramente come dire variabile intanto a seconda della relazione volumetria ha tante caratteristiche aziendali come la logistica eccetera al momento la configurazione è una macchina ogni 300 capi dopo successivamente siccome è in continuo sviluppo un po' come il robot di mungitura quando esce mano a mano a volte ci sono migliorie che vengono apportate lo sviluppo prevede che in futuro insomma questa è l'idea è che ci possano essere più carri collegati alla stessa cucina dopo il discorso cucina è chiaro a seconda di quelle che sono le necessità aziendali possono essere tanti silos tanti bankers ecco quello dipende un attimino dalla relazione aziendale però direi che adesso chiedo anche a Carolina magari che ha più esperienza di me il numero massimo di bankers dice che il numero massimo di bankers è 8 adesso penso che sia un numero eh no 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 ok però dico nella sua esperienza e in quella che è la configurazione attuale del progetto sì attuali ok sì normalmente per la loro esperienza cioè ne hanno usati dai quattro ai cinque adesso dipende un attimino sempre dalle realtà così però il numero massimo sarebbe otto bankers adesso dipende sempre un attimino dalle caratteristiche aziendali e della razione da da configurare dopo ecco il discorso polvere ecco su quello lì sicuramente è un come dire un argomento che forse vale un po' per tutti i sistemi adesso al di là della marca o del colore ma chiaramente quando si va a miscelare tritare o comunque lavorare le varie sostanze è una cosa che è come dire è funzionale cioè avviene automaticamente poi il discorso di aspirazione sì sicuramente andrà studiato applicato e tutto quanto ma eliminarla totalmente penso che sarà difficile perché è un po' come diciamo nella sicurezza sì quello che diceva è che praticamente se tu non vuoi avere la polvere diciamo il discorso di trattamento e trasformazione lo dovresti avere nei campi invece che nella cucina cosa che magari non so quanto possa essere comoda o pratica a livello di preparazione sì il discorso che diceva è difficile da dire è difficile da implementare la gestione per processare nel campo e in questo senso ci sono strategie per minimare la quantità di tass ma bisogna essere chiariti specialmente usando molti materiali di trattamento non sarà quindi sì il discorso che diceva cioè adesso riassumendo il discorso è che trattando comunque sostanze secche è sicuro che un minimo di polvere venga fatto poi è chiaro che si si cercherà sempre di ottimizzare di ridurre al minimo quello che è diciamo la produzione delle polveri quello sicuramente ho una domanda velocissima io per gli esperti ho chi mi vuole rispondere semplicemente io allora si parlava prima 2013 domanda pratica 2013 prima sistema siamo nel 2023 150 sistemi adesso vabbè magari potrebbero essere però un decorso piuttosto lento e sinceramente anche io stesso pensavo di vedere un scenario diverso probabilmente non sono l'unico parlando con un po' di persone nel settore però pensavo anche perché pensavo di un scenario diverso perché comunque l'automazione soprattutto nel robot ho pensato che avrebbe dovuto facilitare o comunque sinergizzare in un certo senso anche questo processo seppur diverso ma non l'ho visto quindi chiedo a voi come lo vedete cosa vi aspettate da questo decorso nei prossimi anni per quello che mi riguarda anche io ho assistito a questa difficoltà di diffusione pur avendo visto la partenza di questi impianti nelle zone teoricamente marginali dell'Alto Adige dove c'erano delle situazioni anche logistiche un po' particolari io credo che il problema grosso sia quello che questo sistema mette a nudo quelle che sono le altre prerogative che le aziende devono avere di qualità degli alimenti organizzazione della campagna giusto rapporto tra animali e dimensionamento dell'azienda e questo secondo me è un aspetto che la tecnologia mette a nudo quando noi parliamo di un livello produttivo più elevato lo dobbiamo considerare solamente in funzione di quello che è stato il miglioramento genetico sicuramente no il miglioramento genetico ha avuto delle prerogative come abbiamo visto anche nella diapositiva del Dottor Bisaglia però in realtà tutto questo aspetto è sempre legato a che cosa? a tutti quegli elementi che condizionano in maniera negativa la produttività perché? perché il miglioramento genetico è stato trasversale a tutto il patrimonio zootecnico italiano quindi non possiamo pensare che sia prerogativa solo di alcune aziende piuttosto che di altre quindi sicuramente questo aspetto legato all'autometriazione dell'alimentazione è un concetto che è stato in qualche modo interpretato in maniera molto personalizzata in funzione di quelli che erano le necessità di fare un investimento perché non c'era la mano d'opera perché sicuramente il discorso del risparmio energetico è un tema importante ma non è mai valutato in tutta la sua priorità che dovrebbe avere perché in realtà in molte aziende avvengono degli sprechi che sono sempre delle conseguenze non sono mai un'analisi di cause che potrebbero essere prese in considerazione a priori e quindi sicuramente questo aspetto è fondamentale io credo che questo impatto inerziale della difficoltà poi sarà superato in funzione di quello che sarà la dimensione delle aziende in cui si potranno proporre degli impianti automatizzati perché sicuramente ecco dimensioni secondo me medio grandi o medio piccole cioè stiamo parlando di aziende che vanno dalle 250 alle 300 unità solamente in lattazione dopo qui abbiamo tutto il settore della rimonta che è un numero di animali altrettanto importante per cui secondo me il futuro sarà sicuramente in questa direzione su aziende che faranno delle scelte oculate allora io penso che diciamo questo un po' rispetto magari ai robot di lungitura questo rallentamento di quello che potenzialmente potrebbero essere i vantaggi e quindi diciamo così le espansioni di questa robotica per quanto riguarda l'alimentazione sia dovuto a una serie di fattori sicuramente il primo è che e mi aggancio a quanto detto prima dottor Bertocchi è che la maggior parte delle aziende non è pronta perché non ha una gestione pronta cioè deve sistemare ancora le fondamente per far sì che quindi non è pronta vorrebbe ma non può magari c'è l'intenzione poi va a casa giustamente fa due valutazioni ma se ti manca tutto il resto io la vedo come la ciliegina sulla torta ho messo a posto un'organizzazione che va dal campo alla greppia ma anche del mename ci vende le vacche dei gruppi produttivi di un certo tipo ho la possibilità di fare otto gruppi dieci gruppi tre gruppi quattro gruppi ok inserisco perché sono talmente strutturato bene che so già che potrà essere un beneficio è un investimento produttivo per la mia azienda l'altro aspetto che secondo me è più grave è che molte aziende non hanno la percezione dell'inefficienza che stanno facendo e quindi non possono apprezzare il valore che può dare una robotazione di robotità perché? Perché non hanno numeri non hanno numeri sprechi giustissimo chissà quante allevatori sanno qual è l'incidenza dello spreco di un alimento rispetto a un altro non lo so quanti sono anche solo l'ingestione di santa secca come puoi dire migliori quando non sai qual è la tua e quello è il concetto c'è ancora troppa poca diciamo così informazione oggettiva vanno solo a sensazioni sì io vado bene adesso vado un po' meglio cosa vuol dire? nulla quindi prima lo step grosso ma e per questo ci va veramente poco qui un po' una provocazione che lancio è solo una cosa mentale è solo una cosa mentale perché ormai abbiamo dei sistemi che con pochi euro veramente ci registrano dei numeri pochi ma utilissimi per poter avere un punto zero e partire e valutare ma a casa mia cosa sto facendo? quali sono i miei punti critici? i miei punti di debolezza? i miei punti di forza? le mie opportunità? ma se non si hanno i numeri come si può valutare un investimento di questo tipo qui? e quindi ma il problema è la mentalità eh ma io non ho quel carro non ho quella pesa no è la mentalità perché non si vuole fare quel passo lì perché forse non si apprezza perché tutto passa attraverso i numeri il progresso arriva solo attraverso i numeri ci sono ancora troppe aziende che non hanno numeri io devo dire visto che loro sono stati molto molto estesi nel trattare il tema devo solo dire una cosa prima di tutto sono d'accordo che fondamentalmente sul fatto che gli allevatori eh hanno capito con fatica cos'era il precision farming e con ancora più fatica capiscono il precision feeding e poi invece qui la provocazione la lancio un po' io perché secondo me il problema è che di fronte cioè una categoria come gli allevatori che sono come diceva Daniele prima abituati a lavorare 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 ed è quasi un peccato concedersi una qualità della vita di questo tipo purtroppo hanno bisogno quando usano una tecnologia di avere delle istruzioni per l'uso e io qui lancio la mia provocazione per adesso le tecnologie che ho visto io nell'ambito zootecnico da latte l'ho scritto sull'ultimo numero di laminanzia purtroppo hanno hanno avuto a monte una grossa pecca cioè che chi le ha vendute agli allevatori non è stato in grado di rendere gli allevatori maturi sugli argomenti speriamo che ciò non accada con il robot di alimentazione della ghia chiudiamo condivido molto la conclusione di Enrico forse è mancata veramente l'assistenza tecnica o meglio la consulenza perché la parola assistenza tecnica sa di vecchio 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 come anche vecchia scusate la parola alimentarista vi prego quello è un termine tipicamente italiano che non ha nessuna traduzione a livello planetario insomma chi si occupa di nutrizione fa il nutrizionista chi pesca fa il pescatore quindi è una terminologia che non penso in questa fase di abbandonare io ringrazio tutti voi è stata almeno per me molto stimolante ringrazio Ghea e Carla Bellucci in particolare che ha reso possibile questa tavola rotonda questo laboratorio di idee perché insomma a me personalmente di idee e spunti ne sono di tanti grazie e spero ci sia una prossima e spero ci sia